Ciao, sono Gian Nicola, consulente alle vendite dell'outlet multimarca di Gruppo Carmeli. Abbiamo a stock oltre 1000 auto delle migliori marche. Ora ve ne faremo vedere una selezione. Se invece preferite venire a toccare con mano la qualità Carmeli, ci trovate a Brescia, Coccaglio, Bergamo, Curno e da oggi anche a Cremona. BMW Serie 1. Ecco la mia preferita, una chicca. Lo stile BMW è la robustetta tedesca in un'auto versatile e bella. Ne abbiamo in tutte le motorizzazioni, benzina o diesel. E in tanti colori. Scopritele sul nostro sito. Questa con noi, di colore bianco, con il suo assetto sportivo M, il kit aerodinamico e il volante sportivo, è irresistibile. Kia Sportage Business Class, una SUV per ogni occasione. Le nostre Sportage sono dotate di motore con tecnologia Mild Ibring. L'esemplare qui con noi ha dei bei cerchi in lega, grintosi da 17 pollici. Il navigatore ed è una vettura aziendale, ad un prezzo imperdibile. Una bellissima Volkswagen Golf 1000 TSI, guidabile anche da neopatentati. Lei è la regina del segmento, le abbiamo in numerosi colori e con allestimenti più o meno ricchi, ma tutti concreti. Su questo esemplare, ad esempio, abbiamo delle chicche, come il volante ed i sedili riscaldabili, oltre ai sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Mercedes Class B, la familiare della Casa della Stella. Un design appagante, ma anche lo spazio per i tuoi viaggi. Un motore parco e un cambio affidabile, top! Ah, però non si rinuncia allo stile Mercedes. Il volante e gli interni sono inconfondibili e la qualità, beh, è da scoprire. Volkswagen Polo, la compatta per eccellenza, guidabile anche da neopatentati. Le abbiamo per tutti i gusti. Rossa, come piace a me, ma anche bianca, nera, grigia. E tutte in pronta consegna e a prezzi super! Ciao, sono Matteo, consulente dell'Outlet Multimarca Gruppo Carmeli, e oggi ti presento la mia selezione. Partiamo da questa Audi A1, la più amata dei giovani, ma perché no, anche da chi ci tiene allo stile. A1 coniuga tutte le esigenze in questo allestimento S-Line e anche sportiva quanto basta. Questo colore è spettacolare, un blu turbo con tetto nero a contrasto che ne risaltano le linee sportive. E all'interno la sostanza Audi, un'eccellenza. Ecco il SUV sportivo per eccellenza, un telaio da far impallidire qualsiasi berlina. Alfa Romeo Stelvio è la punta di diamante del segmento, un vanto italiano, che da noi trovi in pronta consegna, in diversi colori e con accessori super. Ed ora, in questo bellissimo blu, vi presento Kia Seed, un marchio che dell'affidabilità ne ha fatto un pilastro, aziendale e garantita a 7 anni. Questa leona aziendale, in allestimento style, ha un nome che è tutto un programma. Con i suoi fari a LED e i sensori con retrocamera, hai a disposizione tutto il necessario. Sempre, scopila anche in altri colori. Concludiamo rimanendo in Spagna, con un'icona intramontabile. Seat Ibiza, vettura concreta e comoda per ogni occasione. L'allestimento Excellence, con pelle ed alcantara, oltre al navigatore e alla retrocamera, ne fanno un vero gioiellino. Abbiamo voluto farvi vedere una veloce selezione, un assaggio, di cos'è l'outlet multimarca di Gruppo Carmeli. Una varietà che vi sfidiamo a trovare altrove, con un team competente ed esperto, pronto a soddisfare ogni vostra richiesta. Venite a trovarci!